Ben ritrovati amici di Primo Canale, da Emma Parigi di Trebbimedio. Questo sabato 20 gennaio tornerà a splendere il sole sulla Liguria grazie ad un aumento della pressione atmosferica, tempo stabile, stesi rasserenamenti, soffia un po' di vento da nord a tratti vivace e le temperature di orne al più perderanno qualche grado. Uno sguardo più in dettaglio a cosa ci attenderà su ciascuna provincia progressivamente da ovest verso est. Su Imperia splenderà il sole ma soffierà una vivace ventilazione da nord. Le temperature di orne un po' più contenute saranno prossime ai 10-12 gradi. Uno sguardo a cosa ci attenderà su Savona, anche qui i cieli sereni limpidi con ventilazione vivace da nord. Conseguente aumento del moto ondoso, temperature di orne in diminuzione attorno ai 9-10 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, le temperature di orne in diminuzione non andranno oltre i 9-10 gradi. Soffierà un po' di vento da nord e questo comporterà Mar Ligure, sino a mosso sotto costa. Anche sul Tiguglio i cieli saranno limpidi, sereni tersi, con vivace ventilazione da nord sul tratto costiero e temperature di orne più contenute attorno ai 10-11 gradi. Una situazione del tutto analoga anche sullo spezzino. Sole prevalente, un po' di vento da nord e temperature contenute. Nella giornata di domenica la pressione atmosferica resterà alta sulla Liguria, garanzia di stabilità e sole prevalente. Qualche nube di passaggio possibile, ma in assenza di precipitazioni, le temperature di orne al più acquisteranno qualche grado grazie all'attenuazione della ventilazione. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando all'app di Trebbini.